Ciao! Come impostare tasti diversi nelle macchine fotografiche micro 4 terzi Olympus? In questo caso sulla OM1 andiamo nel menu, selezioniamo l'ingranaggio, eccolo qua, e proprio la prima voce è Button Settings e possiamo selezionare il bottone qualsiasi, usiamo le rotelline per cambiare, per esempio, selezionare il bottone ISO, spingiamo OK e possiamo su questo bottone, per esempio, impostare i filtri ND oppure lo scatto ad alta risoluzione on and off o altri parametri, il 1, il 2 per digital converter, HDR, eccetera, eccetera, eccetera. Questo bottone qui è interessante, io lo utilizzo, non nell'ISO, ma in un altro bottone, e infatti l'avevo impostato qui, è il bottone che serve per abilitare o meno l'autofocus a riconoscimento di soggetto, e quindi torno indietro con il menu, rimetto ISO con ISO, per me è comodo ISO, ISO ISO, per me è comodo ISO, vediamo un po', ci possono impostare anche i vari custom mode, io li utilizzo molto, quindi potrei trovare comodo a un certo punto associare un custom mode a un determinato bottone, e questo per i bottoni della macchina, andiamo avanti, come vedete quasi tutti i bottoni possono essere abilitati, anche quelli anteriori, quelli normalmente che si servono per fare la preview della profondità di campo, questi sono i bottoni sul battery grip, quindi se avessi il battery grip, non ce l'ho, potrei impostare delle funzioni diverse, l'ultimo è il tasso funzione dell'obiettivo, questo è un obiettivo senza tasso funzione, quindi niente, io l'ho impostato come peak, per avere l'aiuto nel fuoco manuale, e vedere in rosso quali sono le aree a fuoco, ma ovviamente si può impostare in tanti modi, uno di questi potrebbe essere, per esempio, il preview della profondità di campo, e che troverei più comodo su un tasto laterale, sinistro, vicino all'obiettivo, rispetto al tasto qua giù, che faccio più fatica a raggiungere, questo è un esempio, ma si può mettere veramente in tantissime funzioni, e anche spegnerlo, ovviamente, dipende ovviamente dalle vostre esigenze, potreste trovarvi comodo ad avere nei bottoni una funzione che per me non lo è, lo stesso si possono cambiare anche le rotelle, si può dire, per esempio, in questo caso, io sono in modalità P, la rotella che ho davanti funziona in maniera diversa, mi basta utilizzare la rotella per spegnerla, addirittura cambiare il white balance, gli ISO, o il più o il meno, o i programmi, o spegnerla, andrò a destra con le frecce, la rotella posteriore possiamo usarla per fare altri cambiamenti, e questo è, se vedete bene l'icona in basso, c'è scritto 1 e 2, perché nelle macchine fotografiche Olympus abbiamo la possibilità di avere una levetta 1 e 2 vicino al tasto AL, vediamo se riesco a inquadrarvela, questa levetta qui, che va su e giù, ovviamente, o non riuscirò mai a spingerla in questo modo, ecco, ecco, questo vi permette, per esempio, se la impostate in un determinato modo, a cambiare, ad esempio, il tipo di autofocus, o mettere, o altre cose, e per ogni impostazione, per ogni impostazione, voi potete scegliere fra 1 e 2, quindi, in questo caso, con 1, torniamo indietro, con 1, modalità diaframmi, con 1, nell'impostazione 1, ho la levetta anteriore, che mi fa la compensazione dell'esposizione, e con la levetta posteriore mi cambio il diaframma, se la imposto su 2, posso cambiare ISO e bilanciamento del bianco, questo perché? Perché se divento pratico con questi movimenti 1 o 2, posso semplicemente non togliere mai la mano e l'occhio dal viewfinder, perché semplicemente ho a portata di mano tutti i comandi, visto che la levetta mi può far trasformare le rotelline in un ulteriore paio di rotelline, è come se avessi 4 rotelline, essenzialmente, questo è possibile per ogni impostazione, in questo caso, ad esempio, io sono in modalità M, io voglio pilotare sia il diaframma, sia il tempo di scatto, in più posso, velocemente portandomi con la levetta posteriore messa sul 2, posso fare compensazione e ISO. Nel caso io non faccia mai compensazione, oddio, sembro un sub, nel caso io non faccia mai l'utilizzo della compensazione dell'esposizione, posso cambiare questo valore e magari lasciare il diaframma, perché? Perché io voglio velocemente cambiare fra 1 e 2, ma se per me il diaframma rimane un valore molto importante, non voglio magari trovarmi nella condizione in cui pensavo di essere su 1 e invece ero su 2 o viceversa, quindi praticamente lasciando l'impostazione come l'ho appena messa, avrò sempre sulla rotella anteriore il diaframma e è solo la posteriore che mi cambia a seconda se io sono su 1 o 2. Questa potrebbe essere una strategia di utilizzo della macchina fotografica. Ciao!